Che senso ha fare oggi questa reglia a Roma? Penso che proprio di consapevolezza, di impegno, di riguardo al futuro, di scelta di stare dalla parte della giustizia. C'è l'esigenza in questo momento di ribadire il valore della legalità? Caspina, sempre, non si smette mai di farlo. Poi però onore a tutti quanti quelli che hanno dato la vita.